tre punti per l'esperto lungo con il numero 13 di nuovo rossa alza per owens e adesso non ci sono dubbi era un alley-oop ferrero per lui è il primo fallo qui invece alley-oop clamoroso di laurentis prova anche a riprendere la posizione ma owens salta almeno 30 centimetri marcato da imbro ricezione alta di owens che nuovo torna da wadetensae che spara contro logan con l'aiuto della tabella questa sera varese entra davvero tutto falli che potrebbero quantomeno far accendere la lampadina il bonus presto per correre scappati con david logan cambia passo fino in fondo la stoppata proprio di caruso 11 per logan partita totalmente riaperta qui a masnago la vuole richiudere colmi ross colmi ross attacca alza per taric owens rossa attacca fino in fondo va a depositare il canestro quando può topson ancora coia cerca il pallone alla fine arriva ena per rastona ricezione interna sporcata proprio da volte tensa e corre colmi ross scappati andate qui la palla toccata owens per brown la corsa di ross che è andato a realizzare il 21esimo brown aveva dato di nuovo la doppia cifra di vantaggio scappati è tornata di nuovo a contatto poi non facciamo neanche il tempo a commentare il canestro precedente nel frattempo gli arbitri vogliono andare controllare la situazione all'instant replay questa è la schiacciata di caruso sacripante olby ross nel palleggio aperto vola justin reyes non sarà andato a schiacciare ma ai liberi che abbastanza inusuale markel brown per owens e qui la layup è vincente questa è l'azione di prima la layup owens che vola schiacciare poi due paroline nei confronti degli avversari 75 a 68 markel brown prova la strada libera non c'è l'aiuto dal lato debole di pinkins servizio ma bene due 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 delle due